Ciao a tutti bambini! Oggi vi abbiamo portato delle super sorprese! Apriremo un sacco di bei giochi! Volete vedere che giochi abbiamo? Ve li voglio presentare io bambini! Ecco qua i nuovi super giochi Pili Poi della famosa! Guardate, qui abbiamo la super scuola con il laboratorio delle scienze Poi abbiamo, guardate, la tastiera Abbiamo la foto di un gattino, il microscopio, i libri scolastici, le provette Mappamondo, uh, è anche uno scheletro! Poi qui, guardate, abbiamo una lavagna Abbiamo persino una professoressa Abbiamo veramente tantissime cose, un'altalena Abbiamo tante, tante, tante cose Questo dai quattro anni in su Andiamo a vedere dietro come è fatto Uh, guardate quanti accessori! Ci sono due bambini e la maestra Bambina si è fatta anche la bua Vediamo, vediamo Cosa possiamo fare? Possiamo stare nell'aula di scienza Possiamo fare ricreazione Guardate Possiamo anche andare a giocare a basket O andare a lezioni di musica Poi qui invece cosa abbiamo? Abbiamo il motorino Pini Poon Con una nostra simpaticissima amica Abbiamo tantissimi accessori, vedete? Abbiamo tanti, 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 tanti E tutti sono dei quattro anni in su Quale vogliamo aprire per primo? Apriamo prima il motorino Lei è la mamma che deve portare a scuola i bambini Apriamo la mamma quindi, su Ecco qua Abbiamo tirato fuori la nostra Pini Poon E il suo motorino È veramente divertentissimo Non c'è che dire Opla Abbiamo slegato tutto il nostro motorino Qua ci sta un bambino E poi ci ne sta un altro Vedete? Sleghiamo tutto, 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 tutto E qua c'è la nostra Pini Poon Andiamo a tirare fuori pure lei, bambini? Eccola qua La nostra Pini Poon Guardate che carina Ha il casco con un fiorellino E una farfallina È così carina Guardate Vediamo che altra espressione fa Uh, è sorpresa E qua cos'ha? Ha una collana di diamanti Nella borsa Meglio non dirlo troppo in giro Tutti gli accessori che abbiamo Allora, iniziamo dal primo Abbiamo Uh, una borsa con un diamante addirittura Poi abbiamo una mollettina Se possiamo mettere sul casco Che carino l'orsacchiotto Una bella borsettina con il fiocco Un'altra borsettina carina Un cuoricino Tanti altri accessori piccolini Da mettere attaccati Oh, la cintura Il casco Proviamo a metterle qualcosa Le mettiamo Le mettiamo Uh, un orsacchiotto Che giordo carino E una mollettina No, sul casco non ci sta bene La mollettina Ne mettiamo Una stella Oh, che bel abbinamento E qui Sulla cinta invece Mettiamo questo qua Un po' più grande Oh, si deve far vedere Come borsettina Io voglio metterle questa per oggi Poi vediamo se è il caso di cambiarla Che dite? Vi piace? A me piace veramente tanto Ora dobbiamo aprire la super scuola delle pinipon Che bello Ecco abbiamo aperto la scatola E troviamo tutte queste cose Quindi queste sono le istruzioni Con gli adesivi Sì, che bello C'è un sacco da arredare Proprio bello Qui invece Uh, cosa abbiamo trovato? Ah, la scuola È tutta da costruire Vedete? Quanti aggeggi Proprio bellini Ora costruiamo tutto, bambini Bambini La nostra scuola è quasi completa Attacchiamo l'orologio Oh, guardate che divertimento Attaccare tutti gli adesivi insieme E io attaccherei anche l'adesivo scuola E ce l'abbiamo fatta Adesso guardate Qua ci sono tutti gli adesivi che bisogna attaccare Iniziamo Al fine video vedrete una casa veramente Anzi, una scuola Veramente, veramente bella Bambini, lo sto finendo È veramente, veramente lungo come procedimento Che dite? Mi aiutate? Sì, bambini Iscriveteci qua sotto come dobbiamo fare Esattamente Commentate e iscrivetevi al canale Nel prossimo video Ciao, ciao